Benvenuti nel mio canale. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione per quanto riguarda la soap turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. La seconda stagione della serie si preannuncia ricca di colpi di scena, e momenti di alta tensione. Tra i vari elementi che terranno gli spettatori incollati allo schermo, spicca sicuramente la complessa vicenda di Zeynep, il cui destino continua a intrecciarsi con quello di Emir in modi sempre più inattesi. Zeynep e la nuova gravidanza. Nella seconda stagione, Zeynep rimarrà nuovamente incinta, ma questa volta il figlio sarà di Emir. Nonostante la relazione extraconiugale, Emir si dimostrerà sorprendentemente positivo all'idea di diventare padre. Invece di fuggire dalle sue responsabilità, deciderà di proteggere sia il bambino che la madre. La famiglia di Zeynep. Per Zeynep, però, la situazione sarà decisamente complicata. La relazione con Emir verrà scoperta dalla madre, che non tarderà a informare il padre Hussein. La reazione di quest'ultimo sarà drastica. Zeynep verrà cacciata di casa. Confronto tra Zeynep e Emir. Nonostante l'espulsione da casa, Zeynep deciderà di incontrare Emir per rivelargli le ultime novità sul bambino. Tuttavia, le cose non andranno come previsto. La ragazza verrà seguita dalla madre Fyakhaim, che interverrà al momento dell'incontro. Cosa ci fai ancora accanto a mia figlia? Chiederà Fyakhaim ad Emir, che risponderà con fermezza. Deve sapere che è stata lei a chiamarmi. La sconvolgente verità. Questo confronto culminerà in una rivelazione che lascerà Fyakhaim senza parole. Emir, con determinazione, affermerà. Il mio bambino. Il figlio di Zeynep è mio. Non lo sapeva? La madre di Zeynep rimarrà scioccata dall'ennesima bugia della figlia. Mettendo in evidenza il dramma familiare che si intensificherà nel corso della stagione. La nuova stagione promette di essere un viaggio emozionante tra segreti familiari e relazioni complicate. Gli spettatori saranno affascinati dai nuovi sviluppi e curiosi di scoprire come Zeynep affronterà le sfide che la attendono. Non perdetevi nemmeno un episodio per seguire l'evoluzione di questa intricata storia.